Buongiorno, l'argomento che affronteremo riguarda le infezioni urinarie, come identificarle e come anche affrontarle dal punto di vista terapeutico. Inizierei con dei concetti, diciamo, di base, terminologici, partendo da un concetto che è quello che la colonizzazione microbica delle vie urinarie non è sempre causa di infezione. Quindi è bene tener distinti i due termini, quello di batteriuria, cioè la presenza di batteri nelle vie urinarie, che il più delle volte non provoca alcun sintomo, infatti si parla di batteriuria asintomatica, da la vera e propria infezione delle vie urinarie, ossia da uno stato infettivo, infiammatorio, sintomatico in genere, che può colpire diversi tratti dell'apparato urinario. Chiaramente la sintomatologia varia a seconda del tratto urinario interessato e dall'entità dell'infezione stessa. La batteriuria spesso viene definita non significativa, nel senso che è più ascrivibile ad una contaminazione del campione, tant'è che è raro in questi casi trovare la presenza di leucocituria. Quindi la batteriuria di per sé non è una malattia, addirittura sembra avere un effetto protettivo su quelle che sono le infezioni ricorrenti delle vie urinarie e quindi l'assenza dei sintomi esclude l'elemento di rischio di questa condizione e quindi non è raccomandata sia la ricerca della batteriuria stessa, sia il trattamento con l'utilizzo di antibiotici. Antibiotici che non vanno ovviamente somministrati in questi casi, eccetto alcune eccezioni, quali ad esempio se bisogna procedere a delle procedure endoscopiche, chirurgiche, le infezioni delle vie urinarie vengono classificate principalmente in tre tipi, le infezioni non complicate, le infezioni complicate e le infezioni ricorrenti. Le infezioni non complicate sono sostanzialmente quelle in cui si ritiene che la loro risoluzione sia non complicata, quindi sono le forme piuttosto semplici che colpiscono le donne prevalentemente all'interno di un sistema anatomico che non ha delle particolari disfunzioni. La forma più tipica è la cistite non complicata che può anche essere diagnosticata sulla sola base dei sintomi, non richiede quindi l'urinocultura. L'urinocultura è indicata quando evidentemente o non si risolve oppure esistono delle condizioni sospette che riteniamo possano favorire l'infezione stessa. Le infezioni urinarie complicate invece sono quelle che si verificano in un individuo in cui si ritiene che l'infezione stessa sarà più difficile da eradicare per tutta una serie di fattori legati all'ospite oppure legate a dei germi particolarmente virulenti o multiresistenti. Generalmente è una infezione che presuppone la presenza di fattori predisponenti come ad esempio l'incompleto svuotamento dell'apparato urinario. Ma non solo, ma anche la presenza di un'ostruzione, la presenza di una calcolosi, un reflusso di una diabete millito o uno stato di immunocompromissione, sono tutti elementi che espongono a quelle che sono le infezioni urinarie complicate. Capirete come la popolazione di pazienti è estremamente eterogenea considerando questi fattori, pertanto un approccio universale, sia alla valutazione sia al trattamento stesso delle forme complicate non è sempre possibile. In questi casi è raccomandata l'esecuzione sia dell'esame urine e sia dell'urinocultura, ma soprattutto è importante andare a gestire e risolvere quella che può essere l'anomalia urologica oppure i fattori complicanti sottostanti. Infine le infezioni urinari ricorrenti si definiscono come quelle infezioni semplici o complicate che si verificano con una frequenza di almeno tre episodi in un anno o due episodi negli ultimi sei mesi. La diagnosi delle forme ricorrenti dovrebbe sempre essere coadiuvata da una urocultura, questa è una raccomandazione piuttosto forte, poi generalmente non sono necessari particolari ulteriori approfondimenti a patto che siamo di fronte delle forme che supponiamo non complicate. In caso di sintomi però atipici oppure la presenza di altri elementi che possono far pensare ad una cistite complicata, allora è bene fare degli approfondimenti come una cistoscopia o delle tecniche di imaging. Ma perché le infezioni diventano ricorrenti e quindi sostanzialmente tendono a riproporsi nel tempo anche con una frequenza piuttosto elevata per diversi fattori. Sicuramente due molto importanti sono da una parte la presenza, la creazione di questi reservoir batterici intracellulari quiescenti che sono proprio all'interno della parete della vescica e che fanno sì che questi batteri possono rimanere vitali anche per molti tempo e per molti mesi. L'altro elemento è quello che si può venire a costituire una sorta di struttura complessa e organizzata denominata biofilm all'interno delle quali i batteri diventano difficilmente accessibili tant'è che è stato diciamo dimostrato come i batteri in queste strutture sopravvivono a concentrazioni antibiotiche anche di mille, mille e cinquecento volte superiori rispetto alla quota necessaria per eradicarli se fossero in forma libera. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo porre nei confronti delle infezioni ricorrenti delle vie urinarie è quello di prevenirle.